Se siete interessati ad una telecamera di videosorveglianza, da un lato economica ma dall'altro lato anche di qualità, beh ragazzi siete nel posto giusto. Non vi resta che rimanere sintonizzati fino alla fine perché ho una da proporvi e che può fare davvero al caso vostro. Ma tutto subito dopo la sigla. Ciao ragazzi, ben ritrovati come sempre qui sul mio canale YouTube. E per chi non mi conoscesse, per chi approdasse per la prima volta qui sul mio canale, io sono Giuseppe. Essenzialmente troverete qui due tipologie di video. Da un lato tutorial su Mac, Windows, smartphone, Apple, Android eccetera. Dall'altro lato invece recensioni di prodotti. In questo caso però ragazzi recensioni un po' diverse dal solito. Recensioni più approfondite che mirano a guidarvi all'acquisto. Infatti ogni mio video, ogni mia recensione è suddivisa in capitoli. Così da permettervi di tornarci in futuro qualora non voleste subito vedere tutto quanto il video perché magari è lungo o altro. Insomma ecco una modalità che vi permetterà di fruire a pieno di tutto ciò che riguarda un prodotto, torno a dire, per essere guidati all'acquisto in maniera più consapevole. E spero che appreziate. E se così fosse già vi chiedo amici di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche così rimarrete sempre aggiornati e se vi va anche di lasciare un like. E allora amici come vi dicevo all'inizio ecco oggi ho per voi una nuova telecamera di video sorveglianza. Ringrazio ancora una volta gli amici di Easyweeds per avermene inviata una, un nuovo modello. Come sapete ne abbiamo viste diverse dunque abbiamo anche la possibilità di metterle a confronto ma avete visto anche diverse telecamere di marchi diversi da Easyweeds. Ovviamente ragazzi ringrazio l'azienda ma quando lo faccio certamente rimango sempre imparziale nelle mie recensioni. Infatti quella che ho da mostrarvi non è nient'altro che lei, la C3 TN, una telecamera full HD economica allo stesso tempo ma che forse proprio perché economica ha qualche piccola mancanza della quale voglio discutere proprio con voi. Vi ricordo ragazzi prima di procedere, prima di vederla sul banco, prima di trarre le nostre conclusioni che troverete in descrizione a questo video, nel box sottostante, il link per poter approfondire le caratteristiche e anche il prezzo di acquisto. Dunque qualora voleste acquistarla potrete procedere direttamente dal box qui sotto. Vi ricordo anche che acquistando dei miei link a me arriverà una piccola percentuale così da sostenere il canale ma a voi non cambierà assolutamente nulla. Dunque se volete sostenermi questa è una modalità oltre che a potervi abbonare al canale. Ripeto è una forma di sostegno. Ma troverete ragazzi il link a questo prodotto anche sul mio canale telegram delle offerte. Ormai lo conoscete davvero bene, trovate offerte, codici sconto, errori di prezzo, minimi storici, insomma sarete aggiornati non solo su prodotti tech ma anche su altri prodotti in un canale che vi ho detto ultimamente essere stato rinnovato e insomma capace anche di soddisfare quelle che sono alcune vostre necessità risparmiando e perché no portando a casa qualcosa di interessante. Bene amici allora bando alle ciance passiamo un attimo a descrivere quelle che sono le caratteristiche principali di questa telecamera di video sorveglianza. Anzitutto è una telecamera di video sorveglianza capace di registrare immagini in full HD dunque con una risoluzione di 1080p. È una telecamera interessante anche perché è pensata principalmente per essere collocata in esterno. Infatti è dotata di una certificazione IP67 che le permette di resistere a spruzzi d'acqua, insomma di stare tranquilla qualora fosse appesa, non lo so, fuori dal balcone oppure per inquadrare la macchina, il garage eccetera. Una telecamera ragazzi che però essendo abbastanza economica non è dotata di una batteria che le dà autonomia. Questo significa che dovremo collegarla necessariamente alla corrente elettrica ma non preoccupatevi perché comunque all'interno della confezione troverete anche il comodo caricatore, caricatore che funziona a 12 volt. Pecca di questo caricatore ma poi lo diremo anche alla fine e forse il cavo un po' corto che non permette di mantenere la distanza tra la presa e la telecamera. Insomma è auspicabile una presa vicino alla collocazione appunto della nostra telecamera. Una telecamera che si sostiene attraverso dei tasselli presenti anche loro all'interno della confezione e che è girevole, che è mutabile in posizione. Ha la capacità di rilevare il movimento però ragazzi non ha al suo interno l'auto tracking come gli altri modelli di EasyWiz visti qui sul canale e probabilmente questa è un ulteriore pecca. Però vi ricordo sempre che siamo in una fascia di prezzo bassa e che probabilmente per quello che offre insomma è anche tanto rispetto appunto a questo prezzo davvero economico. Diciamo qualcos'altro, lei è capace di registrare immagini su una micro sd, micro sd che può arrivare fino a 256 gigabyte. Ovviamente amici registrare immagini su una micro sd da un lato è ottimo perché ci consente di avere davvero tantissimo spazio per le registrazioni soprattutto quando queste sono fatte alla massima qualità possibile. Vi ricordo anche che le registrazioni avvengono in loop quindi l'ultima parte si cancella, la parte più vecchia per fare posto alla nuova ovviamente quando la scheda sarà riempita. Però è anche vero ragazzi che non è proprio sicuro questo metodo perché qualsiasi ladro che entra in casa di solito la prima cosa che fa è quella di individuare telecamere, di romperle, togliere la micro sd eccetera. Allora EasyWiz offre anche un servizio di cloud sul quale potremo archiviare tutte quante le nostre registrazioni, tutte quante le nostre immagini, chiaramente però è un servizio a pagamento. EasyWiz vi offre anche un breve periodo di utilizzo gratuito proprio per testare e valutare. Vi ricordo che l'abbonamento va sottoscritto per ogni videocamera. Questo però ragazzi garantisce da un altro lato a fronte di una spesa comunque maggiore sicurezza perché quelle immagini saranno sempre a nostra disposizione, non dovremo pensare ad una micro sd che si va a danneggiare a rompere e allo stesso tempo sono immagini crittografate dove neanche i tecnici di EasyWiz possono accedere alle immagini. Dunque sicurezza davvero totale. Allora ragazzi queste sono le caratteristiche principali della nostra camera, le approfondiremo sul banco a breve nell'unboxing, poi la metteremo alla prova e trarremo le nostre conclusioni. Allora ragazzi eccola qui vedete confezione della camera di EasyWiz C3TN 1080p dunque qualità di registrazione elevata per una camera di questo tipo, smart home camera. Vediamo subito che è disponibile l'app EasyWiz per poterla controllare, scaricabile sia da App Store sia da Google Play. Guardiamo un attimo da vicino la confezione ma soprattutto le caratteristiche. Abbiamo qui vedete il motion detection, dall'altro lato abbiamo una visione notturna ad infrarossi, vedete fino a 30 metri, risoluzione full HD, audio pick up dunque potremo andare a registrare l'audio, chiaramente possiamo andarla a connettere in wifi oltre che con scheda di rete, tra poco vedremo wifi che deve essere 2 giga e 4. Tra l'altro resistente P67 pertanto una camera che potremo mettere anche all'esterno, anzi è pensata proprio per questo e poi vedete oltre al cloud di EasyWiz per la registrazione, ovviamente a pagamento lo sapete benissimo, abbiamo anche una micro SD da inserire, micro SD fino a 256 gigabyte. Non perdiamoci in chiacchiere allora andiamo a vedere subito il contenuto e la camera si presenta in questa maniera, confezione che si apre così, ecco, subito guardiamo c'è un disegno della nostra camera, andiamo ad aprire e abbiamo subito la quick start guide con il QR code attraverso il quale potremo andare a scaricare l'applicazione di funzionamento, ben protetta, eccola qui e si manifesta in questa maniera, andiamola subito a tirare fuori, la vediamo ma a breve più da vicino e prendiamo la scatolina con gli accessori, dentro c'è un ulteriore cartiglio con la garanzia. Andiamo ad aprire e vediamo cosa è incluso all'interno della confezione. Ok, abbiamo innanzitutto, vedete, un adesivo che ci serve per poter andare a posizionare correttamente le viti Fischer per poterla mettere vicino al muro. Abbiamo qui altra dotazione molto molto completa, qui abbiamo proprio i Fischer ragazzi, lo vedete molto bene, abbiamo qui ulteriori tappini che serviranno per andare a coprire proprio, vedete qui, l'ingresso per l'Ethernet, qualora non serva possiamo coprirlo e qui poi l'ingresso per l'alimentazione. In realtà sono anche una sorta di protezione per evitare che qualche malintenzionato vada a scollegarla con estrema facilità. Mettiamo anche questi da parte e infine abbiamo l'alimentatore, cosa importante che l'alimentatore è già incluso al suo interno, quindi perfettamente funzionante, alimentatore da 12 volt ad un ampere comunissimo, qualora si dovesse rompere si sostituisce davvero molto molto semplicemente anche con alimentatori universali. Andiamo a vedere un attimo la nostra camera, abbiamo visto il cavo che permette di alimentarla, qui vedete 12 volt come vi dicevo e qui la presa Ethernet qualora non volessimo utilizzare il wifi. Nella parte sottostante abbiamo i tre fori per i Fischer da inserire al muro e qui abbiamo la parte girevole, noi possiamo andarla a muovere in questa maniera ma chiaramente andando ad avvitare e svitare la camera potremmo fargli fare anche questo movimento di rotazione e poi andarla a fissare. Parte nascosta come vedete abbiamo il QR code per poterla associare. Andiamola a vedere più da vicino da questo lato, la metto così, togliamo la sua protezione e abbiamo un ottimo obiettivo grandangolare, abbiamo anche due illuminatori per poterla far funzionare in visione notturna non soltanto ad infrarossi e abbiamo anche il led che ci indica lo stato. parte inferiore invece vedete abbiamo due vitine per poter togliere lo sportellino dove è collocato sia il tasto di reset sia lo slot per la micro SD. Poi dovrete riavvitarla non solo per la protezione dagli schizzi d'acqua qualora la metteste all'aperto ma anche per rendere più difficile la manomissione e dunque anche andare a rimuovere la micro SD dallo slot. Allora ragazzi la vado ad alimentare, vediamo come sempre l'associazione con l'applicazione di EasyWids. E allora ragazzi fotocamera collegata con il suo cavo, vedete modalità di lampeggio, led blu ci indica che è pronta per l'associazione. Andiamo a scaricare ed aprire l'app EasyWids che si presenta poi in questa maniera. Chiaramente io ho altre camere e quindi vedrò tutta quanta la visione dei miei dispositivi. Prima cosa da andare ad effettuare è premere sul tasto più, vedete posso andare a scegliere cosa collegare, telecamere e qui vado ad inquadrare con la fotocamera il QR code presente sul dispositivo. E allora procedura effettuata, vedete il dispositivo è stato rilevato dall'applicazione, il dispositivo è acceso e faccio avanti. Adesso devo andarlo ad associare al mio router. Come fare? Clicchiamo su avvia, diamo la conferma che la spia blu sta lampeggiando, clicchiamo ancora su avanti e adesso spostiamoci su una rete a 2,4 GHz. Vi ricordo che quelle a 5 GHz non funzionano, dunque vado a cliccare su commuta rete, sono connesso, ritorno alla mia applicazione, eccola qui, vedete ha già riconosciuto anche la password e vado a cliccare su avanti. Una volta fatto questo clicco su accedi, vedete connettere l'access point del dispositivo EasyWiz G8 0054802 e vado ad attendere. Ok, vedete è stata collegata, adesso devo andare a scegliere un nome per la mia fotocamera, quindi vado a chiamarla per esempio telecamera studio, come faccio sempre, ok, e adesso sta partendo la configurazione della mia camera, davvero veloce, vedete già arrivata al 96-97%, eccola qui e adesso la camera è stata riconosciuta tra l'altro in automatico da Alexa, dunque potete star tranquilli da questo punto di vista e qui vedete sta riprendendo, ecco qui sopra la mia fotocamera, tra poco la vedremo perché cliccandoci si ingrandisce. Vi do uno sguardo panoramico dell'applicazione, vedete posso andare a salvare il mio QR code, tenerlo sempre a portata di mano qualora volessi riconfigurarla senza dovermi avvicinare con lo smartphone alla camera che magari è in alto, posso impostare la modalità dell'audio disattivato in maniera predefinita o attivata, questo significa che qualora andaste a vedere cosa succede in una stanza automaticamente avrete l'audio, ma non ve lo consiglio ragazzi perché potrebbero esserci delle interferenze soprattutto quando il microfono dello smartphone è vicino eccetera. Impostazioni del fuso orario, del formato della data, io la vado a mettere come giorno, mese, anno così come l'abbiamo in Italia e cambia, vedete anche il formato del fuso orario. Vado a togliere ragazzi la spunta da prova gratuita del cloud di EasyWiz, poi i prezzi ve li vedete da soli se vi conviene o meno e facciamo avanti in questo caso. Attendiamo un attimo, possiamo scegliere la password per l'account ma a me in questo caso non interessa e vedete sarò riportato praticamente sulla schermata principale, vedete cameretta, studio e così via. Questa è telecamera studio, la nuova, la vedete oscurata ragazzi perché dovrete andare a disattivare ecco la crittografia dello schermo. Vi consiglio di farlo qualora voleste utilizzarla anche con l'assistente vocale perché se la crittografia in questo caso è attivata, dunque dovrete per forza cliccarci dentro per vedere le immagini, anche l'assistente vocale non funzionerà. Se richiamerete lo schermo della telecamera su un Echo per esempio oppure su un dispositivo di Google non vedrete l'immagine. Comunque andiamo a cliccare dentro e vedete si presenta l'applicazione in questa maniera. L'immagine qui sopra e qui abbiamo la possibilità di fare un'istantanea, di registrare ciò che la camera sta vedendo oppure di andare a cambiare la definizione. Vedete standard, definizione elevata, full HD. Io lascio full HD perché comunque ragazzi è una telecamera che va alimentata, dunque non è a batteria e non c'è il rischio di andare a rovinare la batteria. E qui possiamo vedere ragazzi le immagini registrate sia sul cloud oppure sulla micro SD. Ovviamente in questo momento la micro SD non c'è. Poi cosa possiamo fare? Andiamo a cliccare un attimo qui sopra e vedete ci compaiono delle impostazioni. L'audio che posso andare ad attivare o disattivare, vi ho fatto già vedere prima. Poi posso andare ad ingrandire, ecco qui si vede meglio ciò che sta riprendendo, la mia fotocamera, abbiamo la luce sopra, il braccio che la mantiene, eccetera. Qui abbiamo anche la data e l'orario di registrazione. Se vado ancora a cliccare sopra abbiamo altri tastini, quelli che avete visto semplicemente in precedenza. Ovviamente ragazzi questa camera essendo fissa non ha la possibilità di essere orientata tramite il joystick come abbiamo visto in altre circostanze. Ecco perché è bene vedere sempre la configurazione di ogni dispositivo, anche se sul canale ne trovate altre con una configurazione che può apparire la medesima ma in realtà non lo è. Posso andare a cliccare qui in basso a destra e andare a vedere immediatamente da questa schermata tutte quante le altre camere e posso andarle a selezionare. Mentre in alto a destra abbiamo la rotellina per le impostazioni e vi faccio subito vedere. Allora abbiamo l'audio impostabile, quello che vi ho detto prima, l'allarme, possiamo andarlo ad accendere, vedete notifica allarme, questo è 24 ore su 24, ma possiamo andare anche a pianificare le nostre notifiche attraverso anche un calendario, le fasce orarie, potrete dunque non essere disturbati in determinate circostanze perché lui manda le notifiche praticamente push, anche se potremo stabilire un intervallo di invio delle notifiche all'interno dell'applicazione, ma approfitto per dire che queste camere, le EasyWiz, soprattutto tutte le EasyWiz, hanno la possibilità di attivare il geofence, vale a dire lei riconosce in base ad una posizione che andiamo a specificare, per esempio quella dell'abitazione, quando ci allontaniamo e quando ci avviciniamo per dar via e stoppare delle routine, per esempio quelle delle allarme. Nel momento in cui noi ce ne andiamo, rileva che il telefono esce da quest'area di rilevamento, ecco che va ad attivare automaticamente le notifiche, così come le va a disattivare nel momento in cui rientriamo nell'area, tra poco ve lo farò vedere. Comunque ritorniamo alla pianificazione delle notifiche, vedete possiamo andare a stabilire un'area di rilevamento per la camera nell'ambiente, posso andarla a disegnare, vedete posso scegliere quindi i punti in cui deve rilevare qualcosa, così come possiamo aumentare e diminuire la sensibilità di rilevamento. Voi sapete ragazzi che io vi mostro comunque tutto dei dispositivi. Ok, le impostazioni precedenti che abbiamo visto del fuso orario, la data, il wifi per la sua configurazione, andare ad attivare la prova gratuita e poi a pagamento del servizio cloud, stato dell'archivio, vedete possiamo andare a scegliere, qualora ci fosse la memoria interna ci dice anche se questa è occupata, quanto spazio è occupato eccetera. Vi ricordo che la registrazione avviene in loop, quindi quando la memoria si andrà a riempire completamente, cancellerà gli ultimi filmati e si andranno a registrare i nuovi. Poi qui abbiamo, vedete, la versione del dispositivo, c'è un puntino rosso, si indica che posso andare a verificare notifiche che sono arrivate, in questo caso c'è quella dell'aggiornamento del firmware, vi faccio anche vedere, si clicca su aggiornamento, dunque molto molto semplice, vado a cliccare su avvio aggiornamento, ovviamente ragazzi qualora questa fase fosse in esecuzione non dovrete assolutamente andare a toccare la vostra camera, cioè scollegarla o altro, evitate questo rischio altrimenti non funzionerà più. E allora ragazzi aggiornamento del firmware effettuato, vedete versione firmware aggiornata, andiamo a togliere foto criptata, quello che vi dicevo io all'inizio e poi vedete possiamo per esempio personalizzare l'area della privacy, vale a dire che potremo selezionare fino a quattro aree in cui lei non dovrà andare a riprendere, quindi nello spazio che noi vediamo possiamo andare a selezionare solo una parte per poter andare a riprendere, mentre altre le potremo escludere, fino a quattro dunque. Possiamo capovolgere l'immagine, qualora la mettessimo al contrario chiaramente, possiamo sospendere la registrazione delle immagini, possiamo attivare la notifica qualora lei andasse offline, che può essere molto importante perché ci potrebbe dire che qualcuno è in casa e l'ha staccata, manuale dell'utente, informazioni, non lo apro perché uscirebbe tutta quanta la schermata con le informazioni specifiche, ma potremo andare a cambiare il nome del gruppo al quale abbiamo assegnato la nostra camera. Vedete l'audio si è attivato, posso disattivare e andarlo a fare anche in maniera automatica come vi ho fatto vedere in precedenza. Torno indietro semplicemente per farvi andare a vedere le impostazioni generali, il mio profilo, anche qui informazioni personali, il mio album, quindi posso andare a vedere tutte quante le registrazioni salvate nelle diverse fotocamere, nei diversi orari, impostazioni generali, cambiare la lingua, inserire la modalità notte per l'applicazione chiaramente, avvisi via email, posso vedete andarli ad abilitare e disabilitare per le camere che ci sono in casa per esempio, quindi posso anche sceglierle in maniera selettiva, l'aggiornamento automatico del firmware, salva parametri dispositivo, qualora andasse a modificare alcune impostazioni lui li va automaticamente a salvare e quindi potrò accedervi da qualsiasi parte. Strumento di configurazione, semplicemente posso andare a cambiare i parametri della connessione wifi eccetera, dunque altre cose, vedete configurare la modalità, questo significa andare a leggere il QR code, vista live LAN, andare a capire tutti quanti i miei dispositivi collegati tramite cavo LAN che indirizzo IP hanno eccetera. E poi ragazzi per il resto nulla di che, abbiamo la possibilità di integrarlo con gli assistenti vocali. L'ultima cosa che voglio farvi vedere questa funzione, vedete che va ad abilitare le routine del geofence, quello che vi dicevo, io per esempio vedete servizi di localizzazione, quando arrivo e quando esco, ecco, quando arrivo lui mi va a disattivare le notifiche e quando esco me le vado ad attivare, chiaramente quando esco dall'area di localizzazione che posso andare ad impostare qui, vi uscirà una mappa, ci vado a cliccare e qui c'è una mappa, vi faccio vedere proprio una piccola parte giusto per non farvi vedere l'indirizzo completo e quindi qui posso andare a impostare la mia area eccetera. E allora ragazzi, detto questo, l'ultima cosa che voglio mostrarvi è come configurarla all'interno dell'applicazione del nostro assistente vocale, nel mio caso quello di Amazon. Dunque vado ad aprire l'app di Amazon, poi vado alla sezione altro, vado a cliccare su skill e giochi e qui vado a cercare quella di EasyWiz. Eccolo qui, vedete, l'app EasyWiz, dovrò semplicemente andare a impostare le mie password. Adesso c'è impostazioni perché l'ho già fatto, ma voi semplicemente dovrete cliccare su connetti e vi chiederà semplicemente l'indirizzo con il quale avrete registrato i vostri dispositivi. Dunque l'account lo andrete ad inserire e automaticamente sarà configurata anche nell'app di Amazon per funzionare con il vostro assistente vocale. Grazie a tutti. alexa mostra telecamera studio ok ed ecco avete visto è andato ad attivare la telecamera dello studio quella che vi ho avete sentito anche l'audio e allora amici eccoci qui avete visto sul banco ma anche dopo averla messa alla prova che comunque rimane una telecamera di video sorveglianza davvero di qualità per i materiali da un lato certamente per il prezzo ma anche per le immagini in full hd che rendono davvero bene però ragazzi come vi ho detto ci sono pregi ma dall'altro lato anche dei difetti difetti più evidenti in questa telecamera rispetto alle altre di easy with anzitutto la mancanza dell'auto tracking insomma non mi ha molto molto convinto ma anche la mancanza della capacità di rilevare e quindi di differenziare quelle che sono le forme umane da quelle animali questo perché ragazzi ho notato che in fase di registrazione lei è collocata qui in alto nel mio studio insomma in fase di registrazione quando non c'è nessuno ecco con il mio eco show collocato qui dietro che alterna immagini un po più scure un po più chiare insomma lei si attiva e mi manda la notifica pertanto è stato necessario entrare nelle impostazioni andare a definire un'area di alert parziale e dunque non totale questa ragazzi è una piccola scocciatura perché qualora non facessimo una cosa del genere ecco riceveremo sempre notifiche che possono diventare anche fastidiose correlata a questo difetto ragazzi anche la mancanza della possibilità di poter interagire direttamente con chi si trova dall'altra parte nel senso che a livello di audio potremo certamente ascoltare ma ci sono serie difficoltà io non ho trovato il tastino per poter parlare all'interno del nostro smartphone e dunque inviare al segnare alla telecamera per poter far ascoltare appunto la nostra voce tutto quanto questo ripeto c'è nelle altre telecamere di easywiz però capite bene ragazzi che è una mancanza la quale probabilmente si poteva ovviare forse un altoparlante integrato insomma non sarebbe andato ad incidere più di tanto sul prezzo in ogni modo ragazzi ripeto considerando sempre il prezzo considerando ciò per cui lei è pensata è una telecamera accessibile che ha quello che serve altre cose probabilmente non sono necessarie e comunque rimane un prodotto consigliato soprattutto perché spesso e volentieri si trovano anche coupon ulteriori sconti sul prezzo già basso di acquisto insomma qualcosa che può valere la pena da avere se non ci si vuole dissanguare ricordo che comunque easywiz rimane sempre un marchio leader nel settore va bene amici detto questo non ci resta che salutarci avete visto tutto quanto le prove i test l'unboxing potrete trarre sicuramente anche voi le vostre dirette conclusioni e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube ciao 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 ciao